buongiorno a tutti sapete che potete utilizzare extreme gammon in italiano se non lo sapete vi dico che qualche mese fa il gruppo tecnico del cnb coordinato da giorgio castellano che ha svolto anche la maggior parte del lavoro grazie giorgio ha creato la versione italiana di xg che quindi è adesso disponibile tranquillamente senza fare niente e molto facilmente vi faccio vedere adesso rapidamente come potete fare allora andate su options set language qui vi appaiono i linguaggi disponibili poi cliccate sulla bandiera italiana vedete che c'è scritto la data di disponibilità e c'è scritto cnb cioè la traduzione è a cura del cnb quindi cliccate qua è immediatamente tutte le scritte appaiono in italiano tutte direi quasi tutte c'è questo no game load in effetti che mi sembra un po però diciamo che quasi quasi totalmente le scritte sono in italiano potrebbe anche capitare che se voi usate quella funzionalità non vedete la la lingua italiana in quel caso andate su aiuto verifica aggiornamenti vi appare una finestrella che nel mio caso dice che non ci sono degli aggiornamenti importanti perché li ho già caricati nel vostro caso vi proporrà degli aggiornamenti tra cui se appunto non avete ancora disponibile la lingua italiana quello che abilita la lingua italiana direi che è tutto mi sembra molto semplice e mi sembra molto utile per chi non ha grande confidenza con l'inglese per cui grazie ancora in particolare a giorgio e provate provate pure la versione italiana di xg grazie a tutti e arrivederci